Alcuni studenti portoghesi hanno lanciato un'iniziativa senza precedenti. In reazione ai colossali incendi boschivi che quest'estate hanno provocato la morte di oltre 60 persone, stanno cercando soldi sulle piattaforme di crowdfunding per far causa a una cinquantina di paesi europei, accusati di non aver fatto abbastanza per frenare il fenomeno del riscaldamento terrestre. Oggi, dicono i ragazzi di Leiria nel Portogallo centrale, l'inerzia dei grandi stati comincia ad essere una minaccia diretta alla vita nelle zone a rischio siccità del sud del continente. Un gruppo di avvocati britannici ha accettato di seguire il caso. Restano solo da trovare i 40.000 euro necessari.